Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Antonino Spinalbese, noto hair stylist, ha all'attivo numerosi progetti, che lo lanceranno presto anche in tv Il giovane, è stato contattato da Alfonso Signorini, che gli ha chiesto di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello VIP Così, potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia, a partire da settembre La risposta, non è stata ancora chiara, perché probabilmente Antonino Spinalbese non sa ancora che strada prendere Una sua eventuale partecipazione al programma, porterebbe alla separazione dalla figlia Luna Marie Inoltre potrebbe anche causare dei problemi con Belen Rodriguez La bella argentina, sua ex compagna, mamma di Luna, di fronte alla richiesta, ha posto le sue condizioni Secondo indiscrezioni, avrebbe detto che qualora Antonino dovesse decidere di entrare nella casa del Grande Fratello, dovrebbe avere ben chiara l'idea di non vedere la piccola per tutta la permanenza Belen ha spiegato di non essere disposta a fargli delle sorprese, o ad inviare lettere o mostrare in video la figlia L'Argentina vuole proteggere la bambina in tutti i modi ed è per evitare di esporla, dato che è ancora estremamente piccola Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video